Buongiorno, volevo soltanto rendere la partecipità del fatto che il suo sopporto pesicologico non è più utile alla mia persona. Come lei pensà, mi rivolsi a lei perché sto passando dei brutti momenti e il mio lavoro da amministratore del condominio mi genera parecchio stressi, parecchio stressi e chi avre un rubinetto riesce fuori alla terra e chi vuole strutturare la censura, chi vuole strutturare la terrazza, ma roba la pazza no. Per cui io la informo che questa è l'ultima volta che mi vede, io parto, me ne vado. Ho trovato posto in un convento a Benevento, almeno lì se sbaglio il calcolo di me le le mani mi perdonano e gli facciamo pace con la grappa. Eh, povera Italia. Arrivederci dottore. Ciao. 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 ed anche mangiocchi via come funziona sta cosa buongiorno no io sono nuovo veramente sono faustino ma visto che sono appassionoso tanto 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 del psicanalisi ma è possibile che magari se iniziamo gli appuntamenti è possibile magari pagare fra tipo che ne so due tre massimo quattro anni cioè pure se non coi sordi che ne so tipo gli scrivo una poesia cioè perché in fondo la cultura è la vera moneta o no vada via cioè vada via vada via nel senso hegeliano del termine o premere dopo mamma ancora qui sta vada via vada via capitalista questa è buona ah via via calma calma ma calma Grazie a tutti.